Salvamento Academy al Palaruffini di Torino. Parliamo, come abbiamo già fatto anche in Canavese, di disostruzione pediatrica, ma non solo. Partiamo comunque dalla disostruzione pediatrica perché questo davvero può salvare la vita a tanti bambini. Questo è un evento organizzato proprio rivolto a tutti, immancabilmente, anche perché purtroppo in Italia la cultura del primo soccorso è molto indietro rispetto a altri paesi in Europa. Purtroppo oggi abbiamo avuto una brutta notizia di un bimbo di due anni che purtroppo è morto per un soffocamento per via di un chicco d'uva. La manifestazione che noi stiamo cercando di organizzare, i numeri ci stanno dando ragione anche perché abbiamo avuto tantissimi iscritti, è proprio per questo. Cercare di portare la cultura del primo soccorso a tutti, immancabilmente. Non bisogna essere necessariamente dei medici, degli infermieri, ma bisogna avere la consapevolezza e la capacità di poter iniziare a fare un primo soccorso. Questo evento è rivolto all'insegna della sicurezza, anche perché in questa occasione si può spiegare a tutti come intervenire in caso di soffocamento di un bambino mentre mangia. Diciamo che l'alimentazione, il cibo, alcuni cibi sono pericolosi, sono stati fatti degli studi e si sono accorti che alcuni tipi di cibi sono pericolosi, ma non tutti sono pericolosi. Bisogna solo saperli trattare. Quindi la giornata del 24 ottobre è proprio quello di imparare a tagliare i cibi e a somministrare i cibi e nell'eventualità a intervenire in caso di arresto cardiaco. Il primo passaggio di questo evento è quello di spiegare e prevenire soprattutto. Il secondo passaggio è quello di insegnare come somministrare oppure come intervenire in caso di soffocamento, soprattutto nei bambini. Il terzo passaggio è quello di prestare soccorso con una rinanimazione cardiopolmonare. Questo è veramente un evento molto importante e mi è venuta questa idea da un evento già svolto a Rimini l'11 aprile con l'organizzazione Salvagente e da lì mi è venuto in mente di portare questo grande evento a Torino. È veramente una giornata molto importante, soprattutto non solo per i genitori, ma anche per chi ha a che fare con bimbi, tipo insegnanti, babysitter, nonni soprattutto e tutti, immancabilmente. Stiamo creando dei progetti anche all'interno delle scuole, anzi nell'eventualità ci fosse qualche direttrice scolastica che volesse partecipare a questo nostro progetto. Ci può anche contattare tranquillamente e possiamo anche organizzare dei corsi all'interno di queste strutture e formare anche i bambini, perché anche tra di loro è possibile che possono intervenire. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, però è necessario iscriversi anche perché poi bisogna gestire tutta la gente all'interno del Pararuffini. L'inizio è le 15, ma arrivare un po' prima non guasta per poter garantire l'inizio preciso di questo evento. Certamente, l'evento inizia alle ore 15, però con l'apertura dei cancelli alle ore 14, quindi tutte le persone che sono interessate, e spero che siano tante, possono anche arrivare prima, in modo che con tutti gli operatori anche di protezione civile che sono in quella giornata al nostro fianco, per poter mettere in condizione tutte le persone che intervengono quella giornata, anche bambini con passeggini, perché c'è l'area apposta proprio per accomodarsi, non solo per i passeggini, ma anche per i diversamente abili, con carrozzine, eccetera. Quindi ci saranno degli operatori che li accompagneranno proprio nel posto riservato a loro. L'iscrizione bisogna farla obbligatoriamente, però l'evento è gratuito. Però bisogna collegarsi sul nostro sito, www.reart.it oppure su salvamentoacademy.it, fare l'iscrizione. Nell'eventualità non c'è la possibilità di riuscire, perché nessuno ha un computer, eccetera, può comunque presentarsi ugualmente alla cassa, o ci sono degli addetti che forniranno il biglietto. Proviamo a spiegare, però, come si può fare una manovra di disostruzione in un bambino. Sì, allora, parliamo di bambini che vanno da 0 a 12 mesi di età, quindi praticamente dei lattanti, che ingeriscono liquidi o semisolidi, non ingeriscono sicuramente delle sostanze solide. In caso di ostruzione parziale delle viere, non dobbiamo assolutamente fare nulla, quindi non dobbiamo prendere i bambini, scuoterli, dargli pacche sulla schiena, mettere le dita in bocca. Dobbiamo solo osservarli e, nell'eventualità, posizionarli in modo da favorire la fuoriuscita di queste sostanze estranee. Nel caso in cui questa ostruzione si dovesse presentare più consistente, allora questo bambino quindi perdesse la capacità di respirare, perché se piange, tossisce e si lamenta, vuol dire che sta respirando e quindi non abbiamo, come abbiamo detto, questa necessità di intervenire. Se invece dovesse smettere con queste funzioni vitali, quindi la respirazione, dobbiamo intervenire prontamente con questa semplice manovra. Prendiamo il bambino con una manovra AC dalla parte mandibolare, lo posizioniamo sul nostro avambraccio, in questo modo rivolto leggermente verso il basso per favorire la fuoriuscita di queste sostanze. La sua gambetta la posizioniamo sotto la scella per permettere di bloccarlo, che non ci cada a terra. Se abbiamo la possibilità di sederci, ci sediamo, in questo modo appoggiamo il braccio saldamente sul nostro ginocchio e andiamo a dare cinque pacche interscapolari con via di fuga verso l'esterno, cioè al centro delle due scapole con via di fuga verso l'esterno per non colpire la nuca e quindi provocare ulteriori traumi. Quindi una, due, tre, quattro e cinque. Questa manovra ha un effetto al 98,5% di efficacia, quindi quasi assolutamente con questa semplice manovra possiamo disostruire i nostri bambini da questo evento. Nel caso in cui invece avessero dovuto assumere e ingerire delle sostanze solide che possiamo intervenire con un'altra manovra, quindi allunghiamo il braccio, posizioniamo la mano sulla nuca, ribaltiamo il bambino sul nostro avambraccio, al centro del torace, altezza dei capezzoli, sullo sterno, con due dita perpendicolari, andiamo a fare cinque compressioni lente e profonde. Questo per creare una pressione interna, comprimendo i polmoni, andiamo a creare una pressione interna e questa tosse artificiale che faciliterà l'espulsione di questo corpo estraneo. Se non fosse sufficiente riprendiamo con la manovra precedente e andiamo avanti ad oltranza finché o il bambino si riprende e quindi riesce ad espedere questo corpo estraneo oppure perde conoscenze e dobbiamo intervenire con altre manovre di reanimazione cardiopolmonare.